E tu che scuola hai fatto? E tu fai... Eh, io, Steiner... Che scuola hai fatto? Non la conosci, non la... No, ho fatto la Steiner. Scusate, rubo brutalmente il microfono. Non è vero, io sono andata dopo la scuola Steiner, dai preti all'istituto elvetico, i miei compagni me li mangiavano, ma veramente? La Steiner ti ha dato una preparazione che... Certo, due ettavo col prete in alta teologia, alchimia e cose del genere, lo mettevo via ogni volta, la Steiner... Certo, no, no, è una grandissima scuola.